Arezzo più verde, più pulita e più sana. È con questi obiettivi che ha preso avvio il percorso partecipativo volto alla creazione del piano d'azione necessario per adempiere agli impegni della Green City Accord al quale il Comune di Arezzo si è recentemente associato. Il percorso è partito con un incontro pubblico alla Casa dell'Energia, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi chiave delle cinque aree individuate dall'accordo, tra cui la qualità dell'aria e del rumore, l'ecosistema acquatico e la biodiversità, nonché l'economia circolare e la gestione dei rifiuti. Ringrazio personalmente l'amministrazione comunale che ha scelto Urban Center e Casa dell'Energia come luogo deputato agli incontri del Grimmy Five, che è un'importante tranche del Bando Life, Environment and Climate Change che permette di migliorare la qualità della vita all'interno delle nostre città. Sappiamo che nell'Unione Europea circa il 70% della popolazione vive all'interno di grandi città quindi ovviamente migliorare la qualità della vita, la qualità dell'aria e ovviamente anche la condizione psicofisica degli abitanti permette ovviamente di migliorare tutta la qualità della vita a tutto tondo. Questo è il primo incontro, ovviamente partiranno dei tavoli di lavoro che si snoderanno fino alla fine di giugno e che ovviamente verranno coinvolte tutte le partecipate pubbliche e tutti i soggetti che erogano servizi ai cittadini.